Mi sento molto bene e sono più positivo con questa qualificazione. Penso che è molto difficile perché in questo momento giochiamo contro un grande team in Europa e abbiamo solo una possibilità di ottenere il ticket. Ma giochiamo forti ogni match, perché questo match è molto difficile. Mi sento in questo momento molto bene, perché i nostri risultati ci sono molte soddisfazioni di tutto. Ora è una qualificazione per l'Orippi e normalmente per avere pressione, perché questa competizione non ha il medal. È importante solo essere prima. Noi vogliamo essere prima, ma l'altra parte, l'altra squadra è davvero buona, una piccola l'Europa. Per questo proviamo di ripetere i nostri risultati e vincere questo tournament. Noi vediamo che sarà una competizione difficile, perché è come una mini-Europa senza l'Italia, l'Italia, l'Russia e l'Europa. La seconda in l'Europa, l'Europa e le quattro in la stessa competizione. Solo un ticket, quindi sappiamo che sarà molto difficile. anche perché è in mezzo della scena. Abbiamo solo 6-7 giorni per preparare questa competizione. con la nostra squadra. Abbiamo avuto molte problemi, per la scena, l'Europa, l'Europa, l'Europa. Abbiamo iniziato con questi due aiuti, per cercare il ultimo ticket a Tokyo. Sì, questo è l'unico cosa che stiamo pensando su questa qualificazione. Tutto il team è qui, siamo preparati bene. Abbiamo scoperto solo uno fuori Spikershkit. Ma sappiamo che è stato un giusto giusto, abbiamo anche un giusto giusto. Solo un team passa e faremo il nostro meglio per ottenere il ticket per Tokyo. Questa è la nostra ultima possibilità di essere in Tokyo. Per sicuramente sarà un giusto giusto, con uno dei migliori europei. Tutti tutti i team sono qui con solo un motivo. Olimpici. Quindi sarà difficile, difficile. Ma credo che siamo in buoni condizioni. Quindi faremo il nostro meglio. Credo che i ultimi anni abbiamo cresciuto come un team. Ovviamente non siamo ancora in top dell'Europa, ma stiamo bene. E sì, siamo pronti. Abbiamo fatto un pochino di pratica, come tutti i teami. Ma non possiamo essere in più, ma stiamo pronti ora. È sicuramente accionante. Credo che questo turno sarà molto alto livello. Quasi tutti i top europei sono qui. Sono qui. Mi sento bello, sinceramente. Abbiamo alcuni problemi fisici nei teami. Ma speriamo di gestire tutti. Per ottenere i migliori. Per ottenere i migliori. Per ottenere i migliori. Per ottenere i migliori. Credo che sarà difficile. Per ottenere i migliori. Per ottenere i migliori. E poi vediamo con l'ultima cosa. Per noi è una unica opportunità di andare in gli Olimpiadi. Per noi si parliamo per ogni giro. E questo è il nostro scopo. Il nostro corso è il nostro panorama di QTSS. Grazie a tutti.